Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Bri e oggi mi trovo su Roblox Su Adopt Me Che è una modalità di Roblox Quindi un mondo di Roblox gratis Per portarvi nuovi episodi Allora, la seconda volta che l'ho portato sul canale Perché l'ho portato finora soltanto un'unica volta E' quel video che ho fatto Ovvero l'ultimo video più recente che ho fatto Nel senso... L'ultimo video che ho fatto sul canale E' proprio quello lì e ha avuto 100 visualizzazioni Quindi ho deciso di riportarvelo sul canale Roblox Allora, prima di iniziare Volei chiedervi una cosa molto importante Ovvero se vi motivate a scrivere nei commenti Un nome per il canale Vorrei scegliere uno nuovo Però non so quale scegliere Quindi scrivetemi nei commenti qualcosa di breve Un nome breve per il canale Che faccia ovviamente parte per esempio Bri qualcosa Oppure non lo so Quello che volete voi Poi vedrò scegliere il commento migliore Cioè che a me piace di più il nome E andrò a nominare il mio canale in quel modo Ovviamente se non trovo commenti che mi interessano Cioè nel senso nomi carini Che mi piacciono Sceglierò uno mio Cioè uno io Allora Mi raccomando Iscrivetevi sia al mio canale Che a quello di mia sorella Vi lascio il nome in descrizione E E Lasciate un bel like al video Per Supportare la serie di Roblox Allora Oggi sono qui per farvi Per portarvi un sacco di cose Allora Innanzitutto Io dovrei aver scambiato Aspettate che vedo Allora All'inizio Avevo scambiato Vabbè questo è vecchio Avevo scambiato Con Ema 76 1 CZ La saluto in questo video Ciao Ema 76 1 CZ Perché mi aveva dato 3 pet Più questo oggetto Che serviva per Tipo arampicarsi Una cosa del genere In cambio della banana Io all'inizio Ho accettato Perché volevo vedere Comunque i pet Se erano buoni Se mi piacevano Insomma Se mi interessavano E poi l'ho visto Che non mi interessavano E ho rivoluto indietro La mia banana Per fortuna Perché sono stata molto fortunata Ho ricevuto indietro La mia banana Per fortuna E In cambio ovviamente Di quelle cose Poi ho scambiato con uno Che si chiama Si chiama Scusate Is Non so se mail o mail Vabbè Is Smile Penguin Penguin Che lo sia in inglese Is Mail Penguin Questa Anche se era italiano Vabbè comunque Questa macchina In cambio di quest'altra Perché lui mi aveva chiesto Una macchina E io le ho scambiata E poi Con Kingro Yal 1209 Quindi è subito Anche in questo video Ciao E gli ho dato La banana In cambio del treno Io la volevo Io la volevo indietro Però non me l'hanno data Però non fa niente Allora ho scambiato con un altro Il treno E la macchina In cambio della carrozza Poi la carrozza non la volevo Allora l'ho scambiata in cambio Di 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 Infatti adesso Ho il camper Che non ho comprato Ma me l'hanno scambiato Che è carino Comunque Mi piace Molto comodo Anche perché vanno 6 persone Credo Vabbè comunque non è questo l'importante Oggi Aiuto Ma vabbè non fa niente Non ci fate caso a questi messaggi Che mi arrivano più o meno Sempre Allora Come avrete Visto Dalla intro Che ho fatto Ho Cambiato la mia casa Perché la mia casa All'inizio Era Aspettate che devo Ma Ok Fatto Fatto Allora la mia casa All'inizio Era questa qui Cioè nel senso Non è questa qui Però Era Questo tipo di casa Questo Questo qui La casa Mi sa Futuristica E Io ce l'avevo Però Siccome non mi Mi piaceva perché Non si potevano dividere le stanze Le stanze erano un po' piccole Ho deciso di comprarne un'altra Che mi sembra molto più bella Adesso ve la faccio vedere ovviamente Sono indecise fra Quella che ho preso Oppure La casa a barca Che mi piaceva anche un sacco Allora La casa che ho preso Questa qui Ovviamente Da fuori Sembra bruttissima Cioè bruttina Però Da dentro è molto bella Allora adesso Devo trovare casa mia Che è da questa parte Allora io Vabbè Andiamo a piedi Cosa è meglio Perché ho scambiato anche una mia Cioè ho scambiato Due Vericoli In cambio di uno Però non fa niente Allora Casa mia è questa qui Adesso possiamo anche andare con il camper Perché in teoria È lì vicino Ok Allora Guardate Questa è casa mia Da fuori E da dentro È molto più bella Di quanto sembra Allora Questa è l'entrata Qui c'è la cucina Che ho arredato Minimamente E qui c'è il salotto Con la tigur Volevo mettere Next Se non so dire Vabbè Qui La scritta L'ho messa Poi ho visto che costava 100 Quindi l'ho tolta subito Perché se no Spendevo troppo Troppi soldi Quindi Questo è il salotto Qui c'è il bagno Che la doccia L'ho lasciata Perché Stavo già nella casa Quando l'ho comprata Che costava zero Quindi Non volevo Spendere altri soldi Per una doccia Che comunque funzionava Qui c'era la cucina Però siccome non volevo Tenerla qui L'ho spostata a questa parte Quindi quella stanza Non so come utilizzarla E poi Qui c'è Il cibo E l'acqua Per il pet Qui c'è La cuccia Che stava comunque Nella casa Quindi non l'ho pagata E qui sta Questa stanza Che non so cosa mettere Un letto Che stava già Nella casa E poi questa stanza Che è vuota Dove stava La cuccia Con la roba Di pet Io l'ho spostata Qui sotto Che mi sembra Molto più carino Allora Passiamo All'argomento Di oggi Vabbè Comunque Passiamo A quello Che devono fare Oggi Allora Oggi Dobbiamo Fare un po' Di missioni Allora Questa è la casa Che vi ho fatto vedere Adesso E' quella Che adesso Ho io Ed è l'unica Casa Che ho Adesso Quindi l'unica Casa Che possiedo Allora Io sono indecisa Fra la casa Che ho E questa Casa Che è la casa Negozio Se non mi sbaglio Adesso è chiusa Quindi non posso Nemmeno vedere Com'è dentro Cavolo Vabbè Allora Qui c'è un'altra Perché non me ne sono accorta Non fa niente Facciamo Niente Per la casa Questa qui Che è la casa Negozio Che è Molto grande Guardate C'è questa parte qui Che dovrebbe essere Il bagno Ovviamente Questa casa È arrivata un po' Malino Per i colori Però non fa niente Questa Parte è un po' Piena Vabbè Non importa Poi il piano di sopra È così E qui c'è il balcone E basta Forse la mia È un po' Più grande Però non lo so Mi raccomando Vi ricordo Di scrivere Qui sotto Il nome Per il canale Molto breve Cioè Per esempio Bri Non so Qualcosa Anche dei numeri Forse i numeri No Per esempio Bri 20 Bri 30 Bc 40 Vabbè Quello che volete voi Insomma Allora 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 Adesso vi faccio vedere Anche La casa Barca Com'è Perché mi dovete dire Anche Quale è meglio Cioè Meglio quella che ho io Oppure Se dovrei comprare Quella barca Perché Sono un po' Indecisa Se Vendere questa E quindi Prenderla Altro Però Mio Dio Che cosa è questa cosa Ma Allora Io non ci sto capendo niente Allora Uno No Non ci siamo per niente Vabbè Bruttissima Cioè Non è che è bruttissima Proprio in sé per sé Però come L'ha reddita Questa qui È proprio Brutta Ma tanto 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 Seriamente Vabbè Ci sono Non ci sono neanche le scale Da qui si sale No Vabbè Ah Da qui Ah Molto Larga Devo dire Molto comoda Vabbè Comunque Non è questo l'importante Non devo vedere E sconsigliare Questa qua Le case Guardate Siccome Mamma Mi sto perdendo È normale È normale Guardate Qui C'è Questa Stanzetta Che si porta Come si vuole Vabbè Poi c'è Un'altra stanza Qui ci sono Quattro stanze Se non mi sbaglio Si quattro I soldi Buonissimo Venti dollari Per me Allora Usciamo da casa Oggi Siccome Nel trucco Dello scorso video Non ha funzionato Quella cosa Di pet gratis Invece Molti Ha funzionato Ci vorrei Riprovare Però Non Con Cioè Non Decisa Nel senso Che Ci volevo riprovare Giusto Per Farvi Notare Che Comerente Funziona Perché A me Me ne hanno dati Tre Di pet Mi hanno dato Questo Camisa E Un Camisa Non lo so Vabbè Questo pet Mi hanno dato Infatti Mister Scannabel Non l'ho chiamato io E poi Mi hanno dato Fammi vedere Un po' Poi mi hanno dato Questo qui Che Io Ce l'avevo Già Nel Video Perché Io l'avevo Già provato Prima di Fare il video Allora Se questo Ite Devo rispondere Si Sono Ite Che bello Vabbè Comunque Vediamo Se riusciamo A scambiare Qualcosa Di Allora Vediamo Un po' Io di solito Vorrei Ripetteride Anche se Nessuno Me li darà Mai Si Sicuro Si Sono Sicuro Ah Comunque Mi avete chiesto Anche come Mettere Roblox In italiano Ve lo Spregherò Ve lo Spregherò Non ve lo Spiegherò In un prossimo Video Domani Perché Questo video Sto registrando Due Sera Quindi Non lo so Quando Lo vedete Vabbè Allora Questa Non accetta Perché nessuno Mi accetta La richiesta Non lo so Vabbè Ok Allora Vediamo Cosa gli posso dare Vi do questo qui Vediamo Cosa mi mette lei Siamo anche Un blocco Un blocco Loco 16.0 Si Vabbè Non mi vuole dare niente Molto gentile Ve lo ringrazio Molto simpatica Anche L'unicorno Allora Io vi do Tutto Tutti i miei pet 10.000 pet In cambio In cambio Dell'unicorno Ve li do Tutti Allora Scrivo Aiuto No Perché Perché Scusate se ho la tastiera In arabo Però lo scrivo Per fare gli scherzi Allora Scrivo 10 Pet Per No Per Posso così Per Unicorno Forse Unicorno Forse è ancora inglese Vabbè Dove sei andata Ok Please Vediamo se scrivo qualcosa Plus Come lo leggo Ginny Si chiama Vabbè No però è italiana Vai Commercio Commercio Vammelo Dai ti prego Dammelo Scrivo Continuo a scrivere 10 Pet Per Non so Non so Non so Io come scrivo Per Unicorno Please Dove sei andata Sei andata Vabbè Commercio Vediamo Allora Cos'è Vediamo Vediamo questo qua Non posso Mi già Diciamo Ma cosa Mi dai Ma cosa Mi dai Gli do Tutti Mi pette Non me lo darà Mai Ecco Stai guardando Il fallimento Ecco Lo vedete Per cui Non mi fa Meno niente Perché Quando Registro Perché Io quando Registro Dicevo Non mi danno Mai niente Quando Non registro Non mi danno Tutto Non so Per parlare Perché No Io lo voglio sapere Adesso Io lo voglio Adesso Lo voglio sapere Lo voglio sapere Lo voglio sapere Sicuro Vediamo se Questa qua Mi da Tutto Io te lo regalo Praticamente Un regalo Perché questo qua È comune Questo è raro Questo è non comune Questo Vabbè Cos'è È raro No No Teclino Teclino Mi fa Mi fa Schifo Quello Che mi stai dando Ti prego Ginny 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 Tu mi Devi Desideri Amicizia E questo qua Ruzzolo Sì Io C'ho Un sacco Di amicizie Aiuto Ok Ok C'ho un amico Va bene C'ho un sacco Di amicizie Che giocano A All'Hot Me Allora Siccome qui Non troviamo Non abbiamo Molti risultati Dì è questo qui Il cucciolo BGF Vediamo cosa mi vuole dare Mi vuole dare Quello 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 Li do questo Anche Li do questo Li do tutti i miei Petting Tutti Tutti Li do Tutti Due Togli 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 Solo Unicorno Accetta Dammi Adesso Riclina Tre Due Nemmeno a dirlo Vabbè Allora Allora Adesso Scegliamo questo Come pet Anzi Io non scelgo Quasi mai I pet Che stanno Per diventare adulti Perché i pet Che stanno Per diventare adulti Vi spiego Quando diventano adulti La carrozza Di chi è Questa carrozza Allora Di chi è Tu Mi fa sedere Sì Quindi è un po' Cioè Ah Vabbè Ho perso il mio buco Vabbè Vabbè il mio buco Che picca Allora Comunque Perfetto Allora Ho già preso La mia spilla Del giorno Che si prende Da qui E per Qui volevo Chiedere Un'altra cosa Ovvero Cosa ci sarà Per L'evento Di Natale Perché Come sappiamo tutti Per l'evento Di Halloween Ci sono stati Molti minigame E Appunto Ti davano Le caramelle Ti davano L'isposizione Dei Vericoli Tutto Più o meno Quasi tutto Due cose In cambio Per delle caramelle Io vorrei sapere Cosa ci sarà Per Natale Per chi lo sa Ovviamente Quasi nessuno lo saprà Perché ovviamente Non c'è ancora Perché l'evento Di Halloween Ne fido più o meno Cinque o orse Dieci giorni fa Questo è Il royal Vabbè Non lo so dire Royal egg Notai Che commercio Si chiama Pepetto 9 Bel nome Non lo voglio In cambio del pet Allora Dobbiamo andare A fare la doccia Quindi andiamo qui Andiamo a casa mia Che è Probabilmente Dall'altra parte Della città Comunque vi stavo dicendo Siccome Aiuto Siccome Non so Cosa ci sarà A Natale Per chi lo sa Se me lo può dire Se mi sarei irata Comunque Allora Questo video Vi devo soltanto Far vedere La mia casa Quindi se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Al video Iscrivetevi al canale Perché questo qui Dentro casa mia Credo Vabbè Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like Al video L'ho già ripetuto E niente Iscrivetevi nei commenti Il nome per il canale Iscrivetevi al canale Di mia sorella Che lo scrivo In descrizione Il nome E niente Ci vediamo In un prossimo video A presto Ciao